berlino la porta di brandeburgo è un monumento tristemente famoso nella nostra storia recente e ho voluto ritrarlo nel momento del crepuscolo proprio perché questo questa luce un po che se ne sta andando diciamo la luce della sera però accompagna questo monumento in modo più quasi quasi incontroluce emerge questa figura scura del monumento però dietro c'è la luce che porta al risorgere di una vita nuova quindi e c'è anche traffico quindi il movimento della città che accompagna anche questo mio modo di sentire rispetto a questo a questo emblema della città di berlino che è rinata dopo la seconda guerra mondiale e mi fa piacere che faccia parte di questo di questa raccolta proprio perché bisogna secondo me proiettarsi sempre un po nel futuro con un po di speranza ecco diciamo così che la luce che accompagna questo monumento sia di speranza per una nuova vita un nuovo modo di procedere nel tempo